Signori, la peggior settimana della mia vita Ecco, per questo film qua dovrebbe esserci la galera Io non so, cioè non c'è una battuta che non è scontata Cioè, voto 2 Non guardate questa roba qua A meno che non abbiate in mente Vabbè, sicuramente il film che vedi dopo è bellissimo Basta